Per quantificare l'impatto delle applicazioni delle tecnologie e dei processi dell'industria 4.0 nelle aziende e delle filiere storiche della ceramica e della meccanica di Sesto Fiorentino, Regione Toscana, Comune, CNR e Università di Firenze hanno firmato un accordo di collaborazione. Nei prossimi mesi sarà così realizzata un'indagine sul fabbisogno di innovazione dei processi produttivi, sul livello di digitalizzazione delle imprese e sul loro modello di business. Innanzitutto è un passo in avanti verso la migliore comprensione del grado di ammodernamento del nostro sistema produttivo. L'abbiamo fatto in una scala più ampia a livello regionale e cerchiamo di entrare nel dettaglio perché c'è bisogno di comprendere con maggiore puntualità il grado di innovazione come questa è stata fatta proprio dal sistema delle imprese. La Regione metterà a disposizione specifici questionari e una piattaforma dedicata attraverso il sito web Cantieri 4.0. Il Comune fornirà la documentazione necessaria per lo svolgimento della ricerca, collaborando all'individuazione delle imprese e organizzando l'evento della presentazione dei risultati. Gli organismi di ricerca inseriranno i dati sulla piattaforma ed elaboreranno il rapporto finale.